Siamo in un periodo di quarantena, di grande difficoltà, ma una delle cose alle quali non rinuncio è assolutamente l'acquisto del giornale, che riesco anche a fare perché o le dico là sotto casa. In questi giorni appunto, come di consueto, sto comprando il giornale, ma in questi giorni lo sto comprando ancora più volentieri perché, insomma, tra 5, 6, 7 anni riprendere in mano questa carta e rileggere quello che stiamo vivendo sarà importante. Mentre sfogliavo il giornale pensavo che in questo periodo l'edicola aperta fosse importante, quindi il mantenimento dell'edicola aperta fosse importante. E proprio mentre questo pensiero balenava nella mia mente, arrivo ad un articolo in cui un lettore scrive all'irettore dicendo che appunto vedere l'edicola aperta vicino casa e andare a comprare il giornale tutte le mattine mi trasmette un senso di appartenenza a una comunità. E qui c'è una bellissima risposta del direttore che poi vi consiglio di leggere. La cosa che però volevo chiedervi è cosa ne pensate voi? Questo continuato a comprare il giornale in quest'epoca comunque moderna, adesso a prescindere dalla situazione di crisi in cui ci troviamo, continuato a comprare il giornale? Trovare l'edicola aperte vi dà felicità insomma come a me e come a questo lettore.